Ha chiesto un incontro urgente al sindaco di Salerno e il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi, preoccupato per i disagi che i dispositivi di inibizione al traffico delle principali arterie cittadine disposte in occasione di eventi come Pedalando per la città, che si terrà domenica a Salerno, possano arrecare agli ospiti delle strutture alberghiere ed extraalberghiere situate lungo il circuito interdetto. Ilardi, gestore della struttura situata al polo nautico di Pastena, denuncia di essere stato già costretto a sperimentare il disappunto degli ospiti e ha dunque chiesto al sindaco di Salerno di trovare delle soluzioni che contemplino lo svolgimento delle manifestazioni, con la necessità però di garantire la mobilità dei turisti che onorano la città di una propria visita. Siamo molto preoccupati perché sono manifestazioni che si stanno ripetendo nel tempo e in ogni manifestazione noi abbiamo il problema di cosa dire ai turisti. Li teniamo bloccati nelle strutture ricettive oppure li facciamo partire all'alba nonostante abbiano pagato l'imposta di soggiorno. Io vorrei che ci fosse più coordinamento. Noi siamo disponibili a collaborare con l'amministrazione comunale. Ci aspettiamo però dall'amministrazione comunale di essere coinvolti in queste decisioni perché Salerno deve essere accogliente e la prima forma di accoglienza è la mobilità. Lei ha scritto al sindaco oggi? Sì, ho scritto una lettera al sindaco evidenziando che le esigenze di mobilità dei turisti sono esigenze delle strutture ricettive che sono strutture, ricordiamo, di interesse pubblico. Quindi inibire o affievolire il diritto alla mobilità e l'accessibilità delle strutture ricettive significa comprimere un interesse pubblico e prima di assumere questa decisione crediamo che sia necessaria una riflessione e sia necessario capire come contemperare queste manifestazioni con la Salerno turistica che tutti stiamo concorrendo a costruire.